La notizia è ufficiale. Il Covid-19 è arrivato a Canigatti. Si è registrato. Il primo caso sembra trattarsi di una donna. Il primo cittadino in un video dichiara che la paziente sta bene, è in auto isolamento, ha manifestato il sintomo della tosse. Per il resto rimane nella sua abitazione sotto costante controllo medico. Il soggetto, una donna di 47 anni rientrata da Milano dallo scorso 11 marzo, non ha avuto contatti sociali. La conferma del tampone effettuato a domicilio da personale dell'Asp è arrivata direttamente dallo Spalanzani di Roma. Adesso più che mai l'invito di restare a casa deve essere adottato da tutta la comunità. Adesso i casi in provincia di Agrigento al momento sono 33. Ecco il messaggio del sindaco di Canigatti, Ettore Di Ventura. Cari concittadini, ho appena avuto la comunicazione da parte dell'Asp che a Canigatti abbiamo il primo caso di contagio da coronavirus. Mi sono messo immediatamente in contatto con l'Asp, con l'ufficiale sanitario, con le forze dell'ordine ai quali ho comunicato questa circostanza. Ho avuto anche una chiacchierata telefonica con il soggetto in questione che mi ha rassicurato sul suo stato di salute, sta bene, ha soltanto qualche piccolo sintomo. Non ha avuto contatti sociali da giorno 11 marzo e questo è un elemento molto importante che ci tranquillizza tutti su un'eventuale ulteriore ipotesi di contagio. Ho augurato al paziente, al soggetto, una pronta guarigione a nome di tutta la città e testimoniando la vicinanza di tutti noi in questo momento particolarmente difficile. Questa notizia però ci deve fare non abbassare la guardia, anzi ci deve alzare, ci deve mettere tutte nelle condizioni di essere molto più restrittivi nell'applicazione della norma, evitando quanto più possibile i contatti sociali tra di noi e che è l'unico rimedio per combattere questo maledettissimo virus. Quindi rivolgo a voi, a tutti noi, rivolgo anche a me stesso un appello ad essere ancora più forti, ancora più uniti in questo momento difficile, ma sono certo che il Canicattì come ha sempre dimostrato è una grande comunità e anche in questo caso riusciremo a combattere questo virus e saremo ancora più forti di prima.